Questo del decreto agosto è l'ennesimo tentativo di far ripartire l'economia in Italia tutto, ma c'è una specificità e di questo bisogna ringraziare tutto il governo, il ministro Provenzano che ha investito sul mezzogiorno dando la possibilità di avere sgravi enormi per le nuove assunzioni. Naturalmente questo serve per far ripartire l'economia, serve per dare occupazione. Quello che non serve sono cadute a pioggia di denaro che poi non hanno un prosieguo, penso che grazie a questo decreto possa ripartire l'economia del mezzogiorno e con essa tutta l'Italia. Ricordo a me e a tutti quanti che quando l'Italia è cresciuta di più, il mezzogiorno cresceva più del resto d'Italia. Questa è una scommessa per l'Italia non soltanto per il mezzogiorno.